ciao ragazzi e ben ritrovati nella mia cucina oggi finocchi gratinati al forno con le acciughe un classico contorno che preparo sempre i giorni di festa quelli che facciamo noi nella mia famiglia qui vi faccio vedere come pulisco il finocchio e dopo viene tutta la preparazione che è molto semplice preparatelo anche voi che sono veramente buonissimi grazie a tutti finocchi gratinati con le acciughe dopo averli puliti li ho sbollentati e adesso li ho messi in questa teglia metto un po' di formaggio le acciughe queste non sono sotto sale ma sono sotto olio ma sono di quelle salate ai finocchi ovviamente non ho aggiunto sale perché già sapevo che dovevo mettere e questo lo facciamo come contorno i giorni festivi nella mia famiglia pan grattato per far formare la crosticina un filo di olio e in forno in forno a 200 gradi fino a formare la classica crosticina preparazioni per le feste finocchi gratinati alle acciughe che ne pensate vi piace se vi è piaciuta mettetevi un like iscrivetevi al canale mi raccomando attivando la campanellina iscrivetevi anche all'altro canale così vi fate due risate e noi ci vediamo una prossima ricettina ciao